Musica Dopo la nota dei sindacati il presidente Frattura replica dicendo che l'accordo è già al ministero Via libera per la transazione all'ITR da soddisfare i crediti di lavoratori e fasonisti Treno per Roma costretto a fermarsi in più stazioni per garantire i servizi igienici, aveva il bagno rotto Nel pronto soccorso Molisani codice rosa per avvenire incontro ai casi di violenza sulle donne Giovedì la fondazione Neuromed all'udienza di Papa Francesco sulla malattia di Huntington Buongiorno, ben trovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che come avete sentito dai titoli oggi si apre con l'area di crisi Infatti i sindacati hanno chiamato in causa sull'area di crisi industriale il presidente della giunta regionale Paolo Frattura E lo stesso sottolinea come l'accordo di programma è già alla firma dei ministeri Perché non l'abbiamo detto scrive Frattura per terminare di organizzare l'incontro fissato per il prossimo venerdì 19 con il paternariato Ma ascoltiamo le valutazioni del presidente Frattura Area di crisi, presidente Frattura, i sindacati le hanno scritto, lei aveva dato anche una data che poi è quella di oggi La data abbiamo detto entro il 15 accordo di programma, noi venerdì 12 abbiamo approvato in giunta l'accordo di programma condiviso con i ministeri E' alla firma di tutti quanti i ministeri quindi anche la scadenza del 15 maggio l'abbiamo puntualmente rispettata Venerdì ci sarà l'incontro con il partenariato per la presentazione delle linee guida degli avvisi Per cui partirà la divulgazione appunto per gli avvisi e contiamo entro la fine dell'anno di chiudere il percorso con i decreti di concessione Ecco presidente c'erano anche timori sulla profilazione dei lavoratori Ma anche questo come sempre si allarma o ci si allarma senza motivazioni Il profilo o la profilatura per meglio dire di tutti i lavoratori coinvolti dai percorsi di crisi aziendali Che hanno caratterizzato ai me questi ultimi anni nella nostra regione hanno richiesto tempo Abbiamo chiuso la profilatura per tutti quanti gli addetti Abbiamo stanziato risorse importanti per le politiche attive del lavoro Con l'accompagnamento anche alla ricollocazione o all'autoimpiego o addirittura allo scivolo Per quanto riguarda le persone che hanno i requisiti Mi pare che tutti gli impegni che avevamo assunto con tanti sacrifici e con tante risposte Che hanno rischiato l'impopolarità esasperata però ci portano a dire anche sotto questo aspetto Abbiamo rispettato non solo gli impegni ma anche i tempi che ci eravamo dati E non vorrei dimenticare o meglio gradirei ricordare che non solo c'è stata la definizione Con l'acquisizione della filiera avicola da parte del gruppo Amadori Ma che nell'accordo di programma è richiamato il protocollo con il quale Regione, Ministero dello Sviluppo Economico e Amadori Hanno definito la costruzione del contratto di sviluppo per il rilancio della filiera avicola Con risorse aggiuntive ai 15 milioni stanziati per la legge 181 E ora un'importante tanto attesa novità per la ITR Infatti il Ministero per lo Sviluppo Economico ha autorizzato la transazione dell'azienda di Pettoranello Questo passaggio consentirà finalmente di quantificare e pagare le somme dovute ai creditori privilegiati dell'azienda tessile molisana Tra questi gli ex dipendenti, i fasonisti, gli artigiani e i professionisti Ma sentiamo Dopo la buona notizia dell'imminente pagamento delle spettanze ai 39 dipendenti OTI Oggi un ulteriore sviluppo positivo, questa volta di più ampio respiro perché coinvolge la ITR e i suoi 650 dipendenti E' stato firmato infatti proprio ieri sera il decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico Che autorizza la transazione tra la ITR in concordato preventivo e la ITR in amministrazione straordinaria Tale transazione prevede l'imminente vendita da parte della ITR in concordato preventivo Degli oltre 300 mila capi giacenti nei suoi magazzini Il ricavato di tale vendita sarà quindi la soluzione per il pagamento delle intere spettanze Vantate da lavoratori, fasonisti, artigiani e professionisti In attesa di delucidazioni sulla tempistica Si può senza dubbio affermare che la vicenda presa a cuore dal Ministero su preghiera dei commissari Caruso e Ferreri Ha avuto un risvolto positivo e inaspettato Considerata l'imminente scadenza della cassa integrazione L'Osservatorio regionale antimafia del Molise ha approvato all'unanimità il suo primo progetto di prevenzione Rinnovare la memoria storica del nostro paese assieme a tutti gli istituti scolastici molisani Il progetto sarà denominato Adottiamo una vittima di mafia Il progetto prevederà la partecipazione di tutti i ragazzi delle scuole elementari, medi e superiori Ognuno dei quali potrà liberamente scegliere una o più vittime di mafia Ormai per chi prende il treno l'assurdo diventa ovvio Il mezzo partito da Campobasso con l'unico bagno rotto E' costretto a una serie di fermate per consentire ai passeggeri di beneficiare dei servizi igienici in alcune stazioni Ma sentiamo Abbiamo voluto sottilmente ironizzare perché? Perché stamattina il treno partito alle 5.50 da Campobasso diretto a Roma Beh, per strada si è dovuto fermare ogni 15-20 minuti a livello di stazione Perché l'unico bagno presente sul treno era rotto E soprattutto pensate a quell'ora in viaggio La maggior parte dei pendolari anziani ma anche alcuni bambini Avendo necessità del bagno Beh, il capotreno è stato costretto a fermarsi di 15 minuti a 20 minuti stazione dopo stazione Perché almeno fisiologicamente la gente, l'utente del treno, poteva viaggiare quando meno in sicurezza Beh, questo accade nel 2017, oggi è martedì 16 di maggio Ma è mai pensabile, è mai possibile che gente ci scriva dal treno Che è arrivato con un'ora e mezza di ritardo a Roma per motivi fisiologici Ma noi crediamo che da una parte ci viene da sorridere Ma è un sorriso assai amaro Che pesa ancora una volta come un macigno sul sistema ferroviario molisano Ma è mai pensabile, è mai possibile che nel 2017 possa accadere una cosa Che neanche all'albore delle ferrovie poteva e sicuramente accadeva E allora, oggi è il 16 maggio, lo ripeto, ed è successo quello che una signora ci ha mandato Così via sms come messaggio Un messaggio quasi come i naufraghi che buttano questa bottiglietta con il messaggio dentro Con la speranza che qualcuno lo possa prima o poi trovare Noi speriamo prima perché il poi, beh, considerando anche, permetteteci la battuta L'aspetto fisiologico si rischia in questa maniera di scoppiare È la proposta di legge di riordino dell'Agenzia regionale per l'agricoltura L'argomento politico di punta del Consiglio regionale E proprio l'aspetto politico della questione ha portato alcuni consiglieri della maggioranza A sollevare alcune perplessità e criticità Per Vincenzo Niro occorrerebbe una verifica in maggioranza dopo gli strappi registrati negli ultimi tempi Mentre il consigliere Michele Petraroia ha sollevato dubbi su troppe questioni irrisolte È stato il presidente della giunta Paolo Frattura a replicare, puntando il dito, proprio contro l'ex assessore al lavoro Petraroia Oggi, ha detto Frattura, rilancia situazioni del mondo del lavoro che lui stesso aveva tra le mani in assessorato Ma non le ha risolte, perché non le ha trattate e chiuse, visto che aveva la delega Passaggi però che hanno portato allo scoperto i distinguo nella maggioranza E parliamo ora di disoccupazione giovanile, perché in Molise, secondo la consigliera regionale Fusco Perrella Il problema nasce dall'assenza di progettualità serie L'economia molisana vive di una crisi profonda e a generare dati negativi Anche l'elevato tasso di disoccupazione giovanile Percentuali quelle molisane che superano di molto quelle registrate in altre regioni d'Italia Perché secondo me non c'è una visione Fino ad oggi non c'è stata una visione globale, strutturale Sulla quale intervenire e sulla quale anche mettere degli strumenti utili Perché si potesse cominciare a dire Anche per i giovani, noi abbiamo occupato i giovani non con garanzia giovani La penuria di posti di lavoro dedicati ai giovani Secondo la consigliera regionale Fusco Perrella Nasce dall'assenza di una progettualità mirata Non solo c'è una forte È un'elevata, una forte ed elevata Percentuale di giovani disoccupati Ma non ci sono progetti per i giovani Se non garanzia giovani che ha avuto tante criticità e non ha funzionato Unico dato che rincuore che restituisce dignità al Molise in termini di occupazione È che la regione si posiziona appunto ai primi posti con l'imprenditoria femminile Le imprese rosse al femminile hanno avuto sempre un trend molto elevato Però per loro negli anni passanti sono state fatte anche delle politiche mirate di concerto con il Ministero del Lavoro E poi ci sono gli strumenti che molti giovani utilizzano, che fanno imprese E le donne forse un po' più coraggiose e con una mentalità di rischio degli uomini Nel senso non migliori degli uomini ma più coraggiosi Utilizzano gli strumenti anche di Invitalia Il Consiglio Comunale di Campobasso, su proposta dei gruppi civici Ha approvato il regolamento che istituisce la DECO, denominazione comunale di origine In questa maniera sarà possibile rilanciare e valorizzare la produzione locale Legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato Così come alla cultura popolare presente sul territorio Nonché promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive E salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali Dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione La denominazione comunale d'origine è un marchio di qualità di un prodotto Un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto-produzione al luogo storico di origine Rendere più efficienti ed efficaci gli eventuali interventi verso chi è vittima di violenza Questo è l'obiettivo del Codice Rosa, l'iniziativa è stata fortemente voluta dalla consigliera di parità Giuditta Lembo Una task force che lavora all'interno del pronto soccorso, lì dove si presentano casi di violenza È il Codice Rosa, un'idea che nasce a Grosseto nel 2010, ripresa dall'ufficio della consigliera di parità Giuditta Lembo Noi ci siamo attenuti a seguire le procedure quelle di Grosseto Quindi abbiamo, dove era stato previsto appunto una sottoscrizione di un protocollo d'intesa Proprio per creare un discorso di coordinamento a livello di interventi sulla potenziale vittima E quindi per farla sentire anche maggiormente tutelata E questo protocollo prevede proprio un discorso di costituzione anche di task force interistituzionale Dove è pilotata diciamo dalla procura della Repubblica Infatti Grosseto ha sottoscritto questo protocollo tra ASL, procura della Repubblica E quindi c'è stata la nascita di questo coordinamento che a dire la verità dopo pochissimo tempo Ha dimostrato di avere quindi un risvolto e una effettiva capacità di intervento straordinaria Intanto si lavora su fondi e risorse, esiste una legge regionale contro la violenza La numero 15 del 2013 ma un ruolo centrale lo assume tutto il mondo del volontariato L'anno scorso la regione ha messo a bando 188 mila euro che sono state poi aggiudicate Attraverso un bando di gara e è nato quindi un centro antiviolenza qui nella regione Che ha una connotazione pubblica in quanto finanziato con risorse pubbliche Fatto sta però che io sono sempre per riconoscere anche l'attività fondamentale Che fino ad oggi c'è stata a fianco alle vittime che è quella del volontariato Non dimentichiamolo che se non ci fossero stati i volontari che a titolo gratuito E sottolineo a titolo gratuito avessero svolto un'attività di assistenza alle vittime Avremmo avuto quindi delle situazioni ancora più gravi di quelle che abbiamo affrontato Cambierà location la fiera mensile organizzata dall'ANFA Confesercenti di Campobasso La fiera che chiama a raccolta migliaia di persone si tiene l'ultima domenica di ogni mese nella zona industriale Il comune sta riorganizzando la nuova area fiere e quella dell'ANFA Campobasso Si trasferirà a partire dal prossimo settembre nel nuovo campo sportivo di Selvapiana Il trasferimento si rende necessario per avere un'area di dimensioni maggiori Riflettori ancora accesi su piazza prefettura Dopo la regolamentazione amministrativa delle ZTL nell'area continuano non solo a transitare automobili ma anche a parcheggiare Il segnale dell'esistenza della ZTL ovvero zona traffico limitato è ben evidente C'è e campeggia ormai da tempo all'ingresso di piazza prefettura Un divieto di transito e sosta destinato alle automobili con alcune eccezioni L'ingresso ma non la sosta è consentito ai residenti Ai mezzi di emergenza, le auto appartenenti alle forze di polizia Ed è consentito il carico e scarico in alcune fasce orarie E' chiaro in piazza prefettura a Campobasso Vige però l'interpretazione selvaggia dei segnali stradali Il divieto infatti c'è ma non viene rispettato Basta soffermarsi qualche minuto e si assiste ad un vero e proprio caos Macchine di non residenti che entrano ed escono dall'area ZTL Si parcheggiano furgoni che transitano a tutte le ore senza rispettare la fascia oraria descritta nello stesso cartello Piazza prefettura è dunque l'anello debole dell'amministrazione cittadina Che non riesce a definire la funzionalità della stessa piazza In bocco del centro storico I commercianti polemizzano sulla chiusura penalizza il loro commercio al dettaglio E ogni amministrazione prova a tirare a sorte sulla risoluzione della piazza E' chiaro una decisione, gli amministratori devono pur prenderla Altrimenti quello che diventa evidente è un'anarchia nelle regole urbanistiche E ora una notizia di cronaca I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Campobasso Hanno denunciato marito e moglie residenti nel capoluogo per furto in un cantiere di ile I due ladri si erano introdotti nel cantiere Da dove avevano asportato un miscelatore elettrico ed una tagliapiastrelle Per poi occultarli nella propria autovettura parcheggiata di fronte e di leguarsi subito dopo L'oro nero del Molise, il tartufo, è uno degli elementi caratterizzanti della regione Ma anche una risorsa economica In proposito le parole del sindaco di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi Ieri la conferenza stampa del presidente del consiglio regionale Vincenzo Cotugno Firmatario di una proposta di legge finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del tartufo del Molise Ma questo prodotto, che è uno degli elementi distintivi e caratterizzanti del Molise e della provincia di Sernia in primis Quanto è importante dal punto di vista economico per la nostra regione? Ce ne parla il sindaco di San Pietro Avellana Centro annoverato nella ristretta cerchia delle città nazionali del tartufo Alla pari con realtà del calibro di Alba, giusto per intenderci Rappresenta una risorsa importantissima I dati precisi non esistono Si parla di un 30 o 40% di quella che è la produzione nazionale di tartufo bianco pregiato Che se così fosse insomma vorrebbe dire risultati importanti sia in termini economici Ma anche in termini appunto di ritorno sul territorio Il problema è che manca lo step successivo Il tartufo viene cavato e viene portato via Noi dobbiamo cavarlo, raccoglierlo e saperlo valorizzare al meglio Cercare di mantenere il più possibile l'economia legata a quel prodotto su questo territorio E questo si può fare con la promozione dei territori Si può fare con le tartufaie controllate e coltivate E si può fare riconoscendo una filiera, un prodotto che oggi non ce l'ha L'ex Neuromed parteciperà con la sua fondazione All'udienza generale di Papa Francesco sulla malattia di Huntington Un incontro unico che si terrà dopo domani, giovedì 18 maggio Un evento che riconosce la sofferenza delle persone colpite da questa malattia Che non ha cura per migliorarne le condizioni di vita e abbattere le discriminazioni Alba Di Pardo, la fondazione Neurome e dei suoi ricercatori Partecipano a questo evento che è il primo a livello mondiale sulla malattia di Huntington in udienza da Papa Sì, è un evento che ha organizzato la senatrice professoressa Elena Cattaneo È un evento che hanno denominato HD del Mor Più che HD HD sta per malattia di Huntington È un evento unico, un evento storico che vede coinvolti e coinvolge la maggior parte dei paesi del mondo È un evento che in realtà va oltre quelle che sono le logiche e le razionalità della scienza In realtà per la prima volta nella storia la comunità mondiale dei pazienti affetti dalla malattia di Huntington E le famiglie incontrano la comunità scientifica La partecipazione del nostro istituto ad un evento di tale portata sicuramente rappresenta una prova inconfutabile Dell'eccellenza che il Neuromed rappresenta nell'ambito delle malattie rare e nell'ambito della malattia di Huntington Una giornata importante per la fondazione è un riconoscimento per quella che l'attività che noi da sempre promuoviamo Quella della conoscenza, l'importanza della ricerca, l'importanza di non far sentire mai soli nessuno Ma andando dal Papa penso che non si possa non mettere in evidenza come sia importante che venga riconosciuto il diritto al paziente di essere assistito A prescindere dalla patologia, nel caso specifico trattandosi di patologie particolari, di malattie rare, la malattia di Huntington Dare un segnale che c'è attenzione per tutti che a prescindere dal numero delle patologie Comunque noi siamo pronti per dare un sostegno E chiaramente se lo dice Papa Francesco immaginate se possiamo sottrarci noi come fondazione Non solo a ridosso dei boschi ma fino alla costa Sono sempre più numerose le segnalazioni circa la presenza di cinghiali nei pressi o all'interno dei centri abitati del nostro territorio L'ultima segnalazione proviene da Colletorto dove un gruppo di ungulati è stato avvistato proprio all'ingresso del paese I due esemplari transitavano in tutta tranquillità tra le vie comunali Per niente intimoriti dal passaggio di auto o persone Doverose le raccomandazioni rivolte soprattutto agli automobilisti Ormai spesso e volentieri costretti a brusche manovre dovute a questi anomali attraversamenti di carreggiata L'amministrazione comunale di Coglia Volturno punta sul rilancio turistico Partiranno nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione del parco fluviale del Volturno Verrà realizzata una piscina per i turisti estivi 400.000 euro finanziati dai pit mainarde Un progetto di rilancio turistico ambizioso, quello portato avanti dal comune di Coglia Volturno Nel giro di poche settimane dovrebbero partire i lavori di riqualificazione del parco fluviale E dell'area attrezzata presente nella zona verde del paese L'amministrazione comunale di Coglia Volturno guidata dal sindaco Emilio Incollingo Ha terminato nei giorni scorsi le pratiche varie per le spropi dei terreni Sui quali verranno realizzati le migliorie all'area attrezzata Il finanziamento ricevuto già negli anni passati è di quelli importanti Circa 400.000 euro di lavori derivanti dalla presentazione del progetto Con l'area dei pit mainarde Il comune di Coglia Volturno investirà una minima parte su questo tipo di iniziativa Il parco fluviale del Volturno, oltre ad ospitare migliaia di turisti l'anno Custodisce una varietà di flore e di fauna di grandissimo pregio e di importanza E conserva una biodiversità tutta da scoprire Sul posto esiste già un campo attrezzato per la pratica del beach volley Un parco giochi per bambini, un percorso benessere E soprattutto una passeggiata al fiume di grande impatto visivo Con l'avvio dei lavori a progetto Verrà realizzata una piscina riservata ai turisti nella bella stagione Non solo, infatti verranno apportate in migliorie A gran parte della zona attrezzata per i picnic Con la possibile realizzazione anche di un'area riservata al parcheggio dei camper L'estate 2017 sarà fondamentale per il miglioramento di questa parte del paese L'assessore all'ambiente del comune di Campobasso Gianluca Battistini a Campobasso Lo slalom automobilistico presentato in conferenza stampa Che si avrà il prossimo 21 maggio Il fascino suggestivo delle quattro ruote Poi vicino a un modello come questo Alfa Romeo È sempre particolare e simpale 25esimo slalom invece città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini Con il direttore dell'ACI Che è l'ente che ha patrocinato E che ha organizzato sempre questa manifestazione Giovanni Caturano 25 anni non è uno scherzo per una manifestazione Assolutamente no 25 anni sono una tappa importante Che però al tempo stesso Ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio Perché non ci si può mai fermare Sicuramente abbiamo qui un esemplare bello Di macchina d'epoca E lo slalom città di Campobasso abbina da qualche anno Anche la gara di regolarità Quindi vedremo sulle strade di Mascione Non solo le auto da gara Dello slalom vero e proprio Ma anche coloro che parteciperanno Alla gara di regolarità Per auto storiche e diciamo moderne Ecco l'appuntamento ricordiamo Che per domenica 21 maggio È una manifestazione che sta crescendo Una manifestazione a livello europeo Sì una grande soddisfazione questa La gara inizierà in realtà Già da sabato 20 maggio Con le verifiche tecniche e sportive Quindi verranno materialmente controllate Dai nostri tecnici e dai nostri commissari sportivi Sia le vetture che la documentazione a corredo Dei piloti per garantire la massima sicurezza E quindi la certificazione medica E tutto ciò che occorre per fare in modo Che la gara si svolga nel migliore dei modi Una gara appunto che va da 25 anni Che da praticamente da quasi sempre Sì dall'inizio è stata Tappa del campionato italiano slalom E da tre anni è anche gara valida Per la Central European Zone Quindi il campionato europeo Dello slalom Ed era questo l'ultimo servizio Prima di salutarci Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo Previsioni per oggi Martedì 16 maggio Persiste ancora l'anticiclone Anche se nella giornata odierna Verrà disturbato da un flusso di correnti fresche Che nescheranno dell'instabilità pomeridiana Infatti nel pomeriggio Ci saranno addensamenti soprattutto sul settore appenninico Con rovesci a carattere temporalesco In attenuazione durante le ore serali Ma vediamo nel dettaglio le temperature Campobasso massima 19, minima 11 Isernia massima 23, minima 12 Termoli massima 21, minima 16 Venafro massima 26, minima 13 Per la giornata di domani Si prevede prevalenza di bel tempo Grazie a pressioni medio-alte Che interesseranno tutta l'Italia meridionale Temperature minime in calo Con estremi di 15 gradi Massime in aumento Con punte di 23 gradi E con il meteo è davvero tutto L'informazione di TVI Tornerà nuovamente questa sera alle 19.30 Io vi ringrazio per averci seguito E vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.